Ma sai, ieri ho fatto un'ora e venti, bravo, ehm, ma che ha già fatto, ma mica sto con un giocattolo, che fai questo, fai quello, fai questo, oh, ma così fai scemo proprio. E' stato esagerando, ma, vai giù, è stato esagerando, no, non si tratta neanche da una cosa, mi hanno piaciuto un loro giocattolino, ma, eh, però voi state seduti intanto, però non si tratta di incoraggiare, vai giù. Arriba, arriva, eccola, ma bannali per sempre a sti fessi, ma se sei tu che l'hai scritto, ma da netto, parla proprio frate, non dico proprio adesso, Alonso grazie mille per i ride, chi li può vivere? Ma chi sei scemo? Ma chi sei scemo, eh? Ma chi sei scemo, eh? Oh! Io, ma che dici? Però dovresti intensificare, eh, sul tappeto. Porco Dio, un'ora e venti, ieri è fatto, Dio cane, non ti basta, no? Una persona che è partita da zero, non ti basta, no? No, devi fare venti chilometri, devi correre a pendenza cinque, per cento e sette, vai, vai, tanto se mi viene un infarto vengo io meno a me, non mi viene a te, la fesse sorda, eh? Ma svegliatevi ragazzi, svegliatevi cazzo, ma svegliatevi. Ma che adesso giorni di carico e giorni di scarico? Se le fa, le fa e basta, frate. Fallo tutti i giorni di carico e scarico. Vai a scaricare i camion a Amazon, frate. I giorni di carico e scarico. Ora come ti faccio due ore, ma ho un po' di appeso. I giorni di carico e scarico. Tutti i personal trainer. Ma pure Mr. Marra, l'altra volta è venuto, il live ha detto, non sta a sentire a questi qua che parlano. Ha detto, non li stare a sentire. Purissimo, ha detto. Cioè, penso, pure lui, Mr. Marra ha detto, che ha deciso di strunzare. Ha detto, non li devi stare a sentire, continua per la tua strada. Eh, lo so che è un personal trainer, lo so. E se lo dice lui, vuol dire che ha ragione, no? Non è che l'ha detto una persona qualunque. Eh, beh. Mr. Marra, ok, conosciuto, ma è anche un personal trainer. Cioè, quindi, se te lo dici un personal trainer, già tu dici, ok. A parte, ma ci ha fatto pure uno culo da andare a pulozzare la casa. Avete visto? Chi ha visto? Eh, poi sono uscito. Sono uscito pure. Potrei evitare pure di fare il tappeto oggi. L'ho fatto due giorni di fila. Non credo che se non lo faccio oggi, che mi sono mosso anche. Cioè, non mi sono stato fermo sulla sedia. Adesso mi sto sedendo, voglio. Da stamattina adesso mi sto sedendo, voglio. Abbiamo smontato nell'armadio tutti i panni. Piegato a mano tutti i panni, voglio. Più. Due ore. Piegato. Culo così. E voi venite belli, frischi, frischi? Eh no. Sto svegliato dalle nove di stamattina io. Dalle nove di stamani. Ma non mi possono dire, fai il tappeto, lo devi fare. Cioè, non sanno cosa abbiamo fatto tutta la giornata. Vai giù. E devi intensificare l'allenamento. Due giorni che ho fatto il tappeto, lo tengo da tre giorni nel salone. Non è neanche passato una settimana, un mese, nel dire Ah, oggi puoi intensificare l'allenamento. No, non è così. Compare. Non funziona così nella vita. Non funziona. E la roba non è vinta, ma ci ho fatto pure un bello pesce a mano. Hai capito? Dopo un'ora e vendita per l'anno, io ho fatto pure un pesce a mano. Un'ora e vendita per l'anno.